Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo FIFA contest per PS4 per il valore di 30.000 crediti ragazzi, si 30.000 crediti, vi regalo 30.000 crediti ad un unico vincitore per partecipare a questo contest come tutti i miei contest sapete che cosa dovete fare, dovete essere iscritti al canale, avere il vostro proprio canale pubblico ragazzi pubblico cosa significa? Che la vostra lista di video piaciuti deve essere pubblica e le vostre iscrizioni devono essere pubbliche in maniera tale che io posso verificare se siete iscritti e se avete condiviso il video dovete mettere un like al video giustamente e scrivere un partecipo sotto al video ragazzi il risultato di questo video contest ci sarà entro una settimana come tutti i miei contest io vi do tempo una settimana per lasciare un vostro partecipo, un vostro like a questo video e che cosa altro dire ragazzi sono 30.000 crediti non sono molti però comunque fanno gola e 30.000 crediti sono sempre buoni per comprare qualche giocatore quindi io spero che partecipiate in molti e spero che chi vincerà comunque gradirà questa cosa non me ne sono rimasti moltissimi di crediti però farò altri contest per quanto riguarda FIFA quindi state tranquilli che ci saranno anche altri contest detto questo ragazzi non so che altro dirvi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like al video scrivete partecipo e ricordate di avere il vostro canale pubblico in maniera tale che io possa verificare la vostra la vostra iscrizione e tutto il resto detto questo ragazzi vi lascio un saluto un saluto a tutti dal maxi e tutto al prossimo video ciao 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 ciao